Ciao, se anche tu qualche volta hai provato a perdere peso ho delle informazioni che probabilmente non ti faranno felice. Potrebbero addirittura farti arrabbiare. Per anni ti è stato detto che non è possibile perdere più di mezzo o un chilo alla settimana. Purtroppo questa è una bugia e ti ha impedito di bruciare grassi ad una velocità incredibile e nella maniera più semplice possibile. Questo video contiene gli stessi metodi scientifici testati ed usati dai campioni di bodybuilding, dalle celebrità e dai guru del fitness. Questi metodi combinano delle tecniche poco conosciute che motivano il tuo corpo a smaltire dai 4 ai 7 kg di grasso corporeo in sole due settimane. La scienza che supporta il mio sistema è così recente da essere poco conosciuta dal grande pubblico, ma abbastanza potente da attirare l'attenzione di dottori e nutrizionisti. Presta attenzione agli studi nutrizionali che arrivano dalle istituzioni più prestigiose come Harvard. Vedrai che la scienza che si nasconde dietro al mio sistema è solida come una roccia, estremamente efficace e 100% sicura. Ciao a tutti, il mio nome è Brian Flett ed ho impiegato quasi una decade per scoprire questi segreti ancora poco conosciuti. I principali esperti del fitness ci hanno detto molte volte che perdere mezzo o un chilo alla settimana è la maniera più sicura di perdere peso. Mi dispiace dirlo, ma loro non hanno il quadro completo della situazione. Mi hanno mentito, vi hanno mentito ed hanno mentito ad ogni persona nel mondo. Prima di tutto è importante sapere che questo sistema non ha niente a che vedere con il vecchio metodo per perdere peso a passo di lumaca che dice mangia meno e fai più esercizio. Non prevede pericolose pastiglie o strani integratori. E no, non dovrai nemmeno fare infiniti squat o flessioni. Immagino ti sarai trovato a saltare su e giù nel tuo salotto mentre pensavi mi sento davvero stupido. Ci dovrà pure essere un modo migliore. Il tuo istinto ha ragione, c'è un modo migliore. Sto parlando di trasformazioni sbalorditive in sole due settimane o meno. Puoi perdere fino a 7 chili di grasso corporeo, eliminare 5-10 centimetri dalla vita, perdere 2-3 taglie, avere un ventre piatto, potenziare il tuo metabolismo, intensificare i tuoi livelli di energia, togliere centimetri di grasso da fianchi, cosce, pancia e glutei. Ed avere finalmente il controllo assoluto del tuo peso corporeo per il resto della tua vita. Ora, capisco che può sembrarti troppo bello per essere vero. Fidati, milioni di persone in tutto il mondo hanno dubitato di me, fino a che anche loro non hanno visto di persone i risultati. La mia tecnica gli ha fornito delle prove che non potevano ignorare. Gli è bastato guardare le loro pance piatte e sexy. Se mi dai un altro minuto per spiegare, ti mostrerò questi risultati attraverso serie testati fatti. Sono un personal trainer certificato, autore di best seller, consulente per la perdita di peso, nutrizionista sportivo certificato, oratore e creatore della dieta di due settimane. Un sistema basato sulla scienza che ha già aiutato migliaia di persone in tutto il mondo a perdere peso in una maniera davvero veloce. Ora condividerò con te una marea di informazioni per perdere peso dal valore inestimabile. Grazie a queste conoscenze potrai trasformare il tuo corpo e la tua vita. Iniziamo ora la tua trasformazione. Se guarderai tutto questo video, ti dimostrerò che il mio sistema è autentico, affidabile e utile. Le persone che lo ascolteranno con attenzione saranno quelle che sperimenteranno questi straordinari risultati. Anche se può sembrare incredibile, le informazioni che troverai qui sono al 100% precise, infallibili e scientificamente provate. Ok, allora sei pronto? Bene, iniziamo! La prima cosa che devi sapere è che i chili in più che ti stai portando in giro non sono una tua colpa. La verità è che esistono molte motivazioni sulle quali ti sarai sicuramente scervellato per perdere peso in passato e probabilmente ricadono in una o più delle seguenti categorie. Stai avendo delle informazioni sbagliate sulla perdita e sull'aumento del peso. Stai soffrendo di infiammazione cellulare. Stai contando le calorie o ti stai concentrando sul mantra mangia meno, fai più esercizio, con il quale la comunità medica ci ha lavato il cervello per anni. Non stai vedendo dei risultati reali? Grazie a tutti.